Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati nel mio nuovo video. Oggi, come leggete dal titolo, vi porto il giveaway della mia linea, che ovviamente, come saprete già, è uscita ad aprile, Magic Eyes Collection by Axel, ovviamente di quest'anno corrente, del 2023. Come sapete è formato da vari kit, c'è la possibilità di acquistarlo da Instagram e tramite una mail, e anche localmente, se ovviamente siete della regione Puglia. Ho deciso di regalarvi uno di questi kit, in particolare lo Sky Dream Kit, per chi mi segue in maniera più ossidua e ama i miei video. Ovviamente la persona che sarà selezionata potrà darmi i suoi dati in privato, se se la sento, ovviamente se vuole, e io appunto manderò a casa questo giveaway. Dovete semplicemente scrivere se lo volete, io lo voglio, nei commenti, oppure semplicemente un'altra frase simile, iscrivervi al mio canale, e poi io selezionerò una delle persone. Ok? Ma andiamo subito al giveaway. Ragazzi, riceverete a casa questo morbidosissimo kit con il Milk Cloud Foulard, quindi questo foulard color latte in viscosa e cotone, poi riceverete anche la Vip Night Mask, una mascherina da notte logata ad argento, all'interno di questo prezioso sacchettino con questo nastro di seta, e poi riceverete come bonus anche questo magnete per il vostro frigo, o magari da regalare a una persona a voi cara. Il valore di questo kit è 17 euro, se magari 16,90 euro, ma non mette mai a fuoco, va bene lo stesso, comunque su Instagram potete vedere il prezzo originale del kit, 16,90 euro, più ovviamente il prezzo del magnete, che però io vi regalo anche quello che vale appunto 1,50 euro. Quindi il kit vale 17 più 1,50 euro, sono 18,50 euro. Ecco, un kit di 18,50 euro potete averlo a casa vostra senza nemmeno sborsare un centesimo partecipando a questo giveaway. Quindi mi raccomando, scrivete in tanti nei commenti e soprattutto iscrivetevi. Quando arriverò a un tot di scritte e deciderò di selezionare la persona che trovo più opportuna ricevere questo kit, mi manderà i suoi dati tramite la mail di lavoro che conoscete già perché la trovate su Instagram, ma la metterò anche qui in link in bio su YouTube e riceverà questo kit. Ok? Noi ci vediamo alla prossima. Questa era una soppressione per voi e spero vi sia piaciuta questa rifletta straordinaria. Alla prossima, ciao!